benvenuti nel canale youtube alpa distribution oggi vi parliamo di peak design un marchio che vi abbiamo presentato nell'ultimo video in precedenza ed è un marchio che oggi non riusciamo a farne senza nel senso che nella nostra quotidianità soprattutto in moto abbiamo la possibilità di portare con noi il nostro telefono ed avere sempre sott'occhio chiamate mappe per vedere il viaggio che stiamo intraprendendo vi presentiamo le cover ovviamente siamo addirittura arrivata la cover dell'iphone 16 quindi già disponibile nel mercato la cover dell'iphone 16 una cover pulita molto semplice piatta comodo anche da portare nel proprio taschino dei propri pantaloni è una cover che ha già un magnete all'interno che vi permette quindi di agganciare sganciare in in maniera rapida la cover al al sistema di base che già nella moto gancio sia in maniera verticale che in maniera orizzontale non dovete sceglierlo prima di intraprendere il vostro viaggio ma potete anche cambiare durante il percorso e il vostro viaggio oltre alla cover ovviamente abbiamo vari agganci che vi possono aiutare in base alla tipologia della vostra moto o al vostro confort in moto abbiamo l'aggancio da manubrio il classico aggancio con due regolazioni in base alle dimensioni allo spessore del vostro manubrio questo aggancio viene fatto sia in versione classica semplicemente come aggancio o in versione con caricatore che potrete quindi mantenere carico il vostro telefono durante il vostro percorso fate un viaggio lungo è sicuramente la risposta più positiva e adatta alla vostra esigenza abbiamo poi l'aggancio da specchietto che può essere utile con uno scooter quindi per permettervi anche in città di utilizzare il vostro pick design e quindi il vostro telefono durante il percorso in città abbiamo poi l'aggancio da canotto centrale e ultimo ma non meno importante abbiamo l'aggancio che serve per l'olio freni quindi soprattutto dedicato a quelle moto naked dove non hanno magari uno spazio del manubrio o spazi in altre posizioni per agganciare il proprio telefono tutti questi prodotti tutti i prodotti pick design ed è una cosa fondamentale importante visto che sono prodotti che utilizziamo quotidianamente hanno garanzia vita non hanno garanzia 2 non hanno garanzia 5 anni ma a vita questo vi permette quindi qualsiasi problema che il prodotto ha potete chiedere la garanzia in due comodi clic tramite il sito online di pick design se vi è piaciuto questo video lasciate un like e seguiteci nella nostra pagina youtube